Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come scaricare i pennelli per Gimp Per prima cosa andiamo su questo sito www.dimentart.com che vi metterò il link in descrizione Una volta arrivati alla pagina, su qua cerca, scrivete brushes Gimp A questo punto vi spunteranno alcune immagini che sono dei pennelli A questo punto scegliamo quale scaricare, ci clicchiamo Aspettiamo che si carichi l'immagine, cioè la pagina E accanto troveremo download, ci clicchiamo E ci partirà Aspettiamo che si possa aprire A questo punto aspettiamo che si apre Willard E dobbiamo estrarre la cartella sul desktop Ok Una volta fatto questo, apriamo la cartella E copriamo tutti i pennelli che ci sono Tasso destro Aspettiamo Copio A questo punto andiamo in Di scollocare C Quello che avete insomma Io ho acerci, però è sempre di scollocare Poi fate Programmi Gimp 2 O 2.0 Share Gimp Brushes Sketch A questo punto fate il tasto destro Incolla Continuo Aspettiamo che incolli Vabbè Poi ci dirà se vogliamo Consentire Ne scrive Facciamo sì Ok Se avete il gimp aperto Chiudetelo E troverete i pennelli Per esempio Ora mi è chiuso Quando lo aprirò Usciranno i pennelli E potete anche eliminare la cartella Spero che il video vi sia stato utile Se avete problemi Commentate Al prossimo video